Mi fa molto piacere sentire che non solo le scuole professionali sono interessate a questo tipo di accordi ma addirittura i licei o quant'altro lo vedono come strumento per un'opportunità per far crescere nell'ambito della scelta che può fare un ragazzo. Studenti e lavoratori insieme sono i ragazzi che aderiscono all'apprendistato duale che vede a Castelfranco un innovativo progetto portato avanti da Confartigianato Imprese in cui sono già coinvolti una settantina di allievi degli istituti dell'area. Una nuova forma di alternanza scuola-lavoro di cui si è parlato in una tavola rotonda alla presenza delle scuole stesse, Ipsi a Galilei, il primo ad aderire al progetto ma anche Barsanti, Martini, Liceo Giorgione, Nightingale, Rosselli, Maffioli, Segra, Lepido Rocco, Fondazione Opera Montegrappa e Irigem. Assumerli all'inizio della quarta superiore e accompagnarli fino alla maturità dell'anno successivo, quindi consente all'impresa un percorso più ampio di investimento formativo sul ragazzo. Il ragazzo per questi 16-17 mesi che ci sono in questo intervallo è dipendente effettivo dell'azienda, ha una busta paga, gli vale per la pensione, quindi è un salto completamente diverso rispetto all'approccio che c'è stato finora. Abbiamo sicuramente i nostri ragazzi che sono entusiasti di poter essere studenti lavoratori, le famiglie ci appoggiano e rispondiamo a un'esigenza che c'è nel territorio. Un'esperienza formativa che va ben al di là di quanto era stato sperimentato finora un vero e proprio investimento sul futuro. Quando i ragazzi arrivano direttamente dal mondo della scuola, quando fanno il periodo di stage, quello obbligatorio e quant'altro, assumono basse competenze, non hanno una formazione sia a livello pratico e tecnologico dove a scuola non possono avere gli strumenti chiaramente per essere preparati al mondo del lavoro che è attuale. Competenze che riguardano anche la sicurezza dei lavoratori con gli studenti che saranno formati con la massima attenzione. Bisogna che ci siano tutte le prescrizioni da norma, che siano formati, che seguono un percorso di ascolto in azienda di tutte le regole inerenti alla sicurezza che ogni azienda oggi ha obbligatoriamente deve avere.